Progetto Visnova Start Living Again insieme contro l'Asla è il titolo del progetto promosso dalla cooperativa CAFA che è stato illustrato questa mattina nella città di Angria alla presenza dei dirigenti dei distretti sanitari del territorio e del manager dell'Asla Salerno Antonio Squillante. Il progetto è rivolto ai pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica e ai loro familiari che prestano cure a queste persone. L'obiettivo è quello di creare una rete e di far uscire dall'isolamento queste famiglie che vivono questo problema. L'obiettivo principale è quello di rafforzare la rete di assistenza, seffert delle famiglie, ma soprattutto creare interventi che alleviano l'onere e carico di assistenza per queste famiglie. Nel concreto sono previsti interventi di assistenza domiciliare, di sostegno alle famiglie, sono previsti interventi di formazione e aggiornamento sui temi importanti che riguardano la diagnostica, l'evoluzione farmacologica, eccetera. Sono previsti percorsi di costruzione della banca del tempo, quindi il ragionamento della costruzione della rete seffert tra le famiglie, e le relazioni tra le famiglie per rafforzare e far superare questo senso di isolamento che altrimenti renderebbe difficile e ancora più penoso lo sforzo che mettono in essere queste famiglie. Sono interventi abbastanza modesti, ma io credo, lo riteniamo, se fatti con qualità e con serietà, sono interventi che potrebbero permettere un recupero su questi territori del senso dell'importanza di programmare gli interventi in rete, cosa che questo territorio negli anni passati ha testimoniato con grande energia e con grande vigore. Dovremmo recuperare questo e noi come terzo settore stiamo cercando di dare il nostro contributo stimolando soprattutto le realtà istituzionali a recuperare questa capacità di leggere le problematiche sul territorio in un modo più coeso e più programmatico. Non è mancata poi una polemica a margine di questa presentazione a suscitarla all'assenza dell'amministrazione comunale di Angri, del sindaco Pasquale Mauri e dell'assessore al ramo. Mi dispiace di non vedere nel sindaco e nell'amministrazione comunale presenti a questa cosa, malgrado fossero stati invitati. Vanno solo sbanderando la loro sensibilità, però vi seguire un convegno di una cooperativa fatta che sta sul territorio e malgrado fossero stati invitati, ripeto, non vedo la presenza né di loro né di nessun altro che faccia parte di questa maggioranza. E questo mi dispiace tantissimo, non riesco a capire il perché. Risto Pizzeria Manu Il piacere della pizza Esattamente come ami tu